Parti per le vacanze? Ecco alcune cose da mettere assolutamente in valigia. I documenti, certificato di iscrizione all'anagrafe canina, libretto sanitario e per chi va all'estero anche il passaporto, aggiornato con tutte le vaccinazioni obbligatorie. La sua medaglietta, con nome e numero di telefono, la museruola. È bene portarla sempre dietro, in alcuni spazi pubblici, obbligatorio dimostrare anche solo di averla a portata di mano. Cupertina o materassino, per farlo sentire come a casa e aiutarlo a trovare presto adattamento e sicurezza. I giochi, portarne alcuni tra i suoi preferiti, servirà di intrattenerlo durante tutta la vacanza. Sacchetti igienici e borraccia, è atto di tutela verso tutti, ricordarsi di raccogliere gli escreventi e lavare dove eventualmente hanno fatto pipì. E ancora, farmaci consigliati dal veterinario e kit di pronto soccorso da viaggio per essere preparati ad ogni evidenza. Buon viaggio!